La statale 223 di Paganico per un mezzo pesante navaria è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 53 e 500. Sulla FIPILI in direzione Firenze per lavori tre chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa e coda in direzione mare sulla carreggiata opposta. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Truneta. Sulla statale 2 Cassia fino al 9 aprile per lavori è chiuso lo svincolo di Montalcino in ingresso e uscita in direzione Siena. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!